Allora, io sono Laura, lui invece è Milo. Imba! Io sono Guido e lui è Tommasino. Aspettate, vado a prenderlo un attimo. Sono Elpidio e lui è Red. Sono Martina, faccio la volontaria praticamente da quasi sempre. Perché mi fa sentire una persona migliore. Perché è un vero e proprio amore verso i nostri amici a quattro zampe. Tutti i canini si sorreggono grazie alle donazioni. Aiutano i volontari e le associazioni. Per contribuire al benessere dei cani e dei gatti in cerca di una nuova famiglia che ospitate nella vostra struttura abbiamo pensato di donarvi 240 kg di alimenti monge. Grazie monge. Ti voglio bene piccolo Miluzzino. Sopra la campa la capa crampa, sotto la... no, mi ricordo, sotto come era. Se fossi un animale sicuramente io sarei un gatto. Un'aquila reale. Sono da parte degli animali. Sono dalla parte degli animali. Sono dalla parte degli animali. Il nostro shouldem è che ciacions per le dei sottotitoli umano. Si you racilメ laята June, Nel prodotto di sviluppo, MARCA non ci ci sono due handle. le normali di idea diнако une nuova famiglia di nel pizzo già Grazie a tutti.